Ciao a tutti, Firenze sotto l'Arno, questo è il video che oggi realizzerò. Come avevo già detto precedentemente, io sono un'intelligenza umana e come intelligenza umana posso comandare, posso schiavizzare l'intelligenza artificiale. Ecco la mia intelligenza artificiale, ve la presento, si chiama Eko. Ciao Eko. Eko, presentati. Ciao, mi chiamo Alexa e sono un'intelligenza artificiale, spero di riuscire ad aiutarti e a tenerti compagnia. Eko, come stai? Sto benissimo, durante questa settimana di Halloween i miei circuiti vibrano con storie spaventose e piene di emozione e ne conosco parecchie. Se vuoi sentirle, basta dire raccontami una storia di Halloween. Eko, raccontami una storia di Halloween. La pensione nei boschi Quella pensione tra i boschi non è affatto come se la immaginavano, o meglio, come appariva dalle fotografie sul sito internet. C'è pochissima luce, le ragnatele sono ovunque e nelle stanze regna un odore sgradevole di muffa. Già dopo quel primo giorno la voglia di andare era tanta, ma la goccia che fa traboccare il vaso sono i rumori che sentono provenire di sera dalla soffitta. Ululati, cateni trascinate, risate diaboliche. Ormai è mezzanotte passata. Ma Giulia e Nicola non riescono a resistere. Lui carica le valigie in macchina, lei va a pagare alla reception. Nicola aspetta in macchina da cinque minuti, quando ecco che Giulia arriva trafilata, sale in macchina, gli facendo di partire. Spiega che non ha trovato il titolare, ma ha lasciato i soldi per saldare il conto della camera. Nicola obbedisce, innesta la prima, poi la seconda, e si mette sulla strada. Pochi istanti dopo, vedono un fascio di luce puntato su di loro. Una macchina li sta inseguendo. Nicola accelera, ma non riesce a distanziarla, anzi, a ogni curva il veicolo si avvicina sempre di più. La macchina suona il clacson ripetutamente, ma Giulia e Nicola non hanno alcuna intenzione di fermarsi, almeno fino a quando un tronco d'albero non sbarra loro la strada. Nicola inchioda. Non c'è modo di superarlo. Anche il loro inseguitore si ferma, scende dall'auto e si dirige verso di loro. E il titolare della pensione stringe qualcosa in mano, ma non riescono a capire cosa sia. Bussa il finestrino di Giulia, che con mano tremante lo tira giù. L'uomo sorride e dice, «Tenga, credo che questo sia il suo portafogli. Mi spiace non avervi sentito andare via, ma stavo guardando una maratona di film dell'orrore nella mia stanza all'ultimo piano». E in quel momento Giulia e Nicola scoppiano a ridere. Per fortuna si è trattato solamente di un grosso malinteso. Bene, la storia è finita, adesso d'oca a me. Il titolo del video di oggi è «Firenze sotto l'arno». Oggi, verso le 11.30 del giorno 29 ottobre 2024, su RAI 3, c'è stata la trasmissione Mixer Storia. Questa trasmissione è stata molto interessante. Io consiglio a tutti di darla vedere. Adesso traiamo alcune informazioni sul Mixer, il programma della RAI. Chiedo alla mia intelligenza artificiale. «Eco, parla di Mixer RAI». «Sto ascoltando. Puoi chiedermi le notizie del giorno o farmi ascoltare una playlist del tuo stile musicale preferito?» Come tutte le intelligenze artificiali, spesso l'intelligenza non capisce. E quindi bisogna rifare e riformulare la domanda. «Eco, dammi delle notizie su Mixer RAI». «Eco, dammi delle informazioni sul Mixer, programma della RAI». «Eco, dammi delle informazioni sul Mixer, programma della RAI». «Che riunisce spettatori e streamer per giocare, chattare o persino condividere il controllo». Allora, come avete capito, l'intelligenza artificiale a volte prende delle farfalle e non capisce bene quello che uno dice. Ma vi dico in sintesi quello che ho visto. Ho visto un programma veramente molto interessante sull'allugione avvenuta a Firenze qualche anno fa, esattamente nel 1966. «Ho scoperto delle cose che non sapevo». Io consiglio a tutti di poter vedere questa trasmissione perché è stata molto interessante. E ha raccontato dell'episodio di alcune cose che io in realtà non sapevo, tipo che in quel periodo a Firenze l'acqua si è miscelata con il gasolio presenti in alcune abitazioni. In questa maniera che cosa succedeva? Che poteva scoppiare un incendio e poteva essere più devastante quello che era successo a Firenze. Naturalmente tutto ciò che è successo è stata una catastrofe, una catastrofe, è stato impressionante il lavoro fatto da tutte le persone che hanno pulito e hanno cercato di salvare il salvabile. Pensiamo che Firenze è stata la capitale del nostro rinascimento. Moltissime opere d'arte, opere d'arte, d'arte, moltissimi libri, moltissime opere, in più tutta la città e tutte le persone hanno rischiato tantissimo in quel momento. Fra l'altro c'è un episodio abbastanza comico che non pensavo che fosse avvenuto. L'acqua, entrando nei negozi, ha portato via i manichini che erano trasportati dall'acqua e alcune persone pensavano che erano delle persone morte. In realtà, per fortuna, solo 35 persone, solo, dico solo, però anche se fosse stata una sola persona, sarebbe stata una catastrofe lo stesso. Perché qualcuno è morto, circa 35 persone. Però i danni potevano essere, dal punto di vista umano, più rilevanti. È stata una catastrofe umanitaria che ha messo alla prova tutta la nazione italiana, perché molti hanno aiutato e hanno sparato, hanno tolto il fango che ha sommerso Firenze. La Firenze, la città d'arte, che ha moltissime opere d'arte. Tra l'altro, la cosa che non sapevo, è che durante questo episodio il crocifisso di Cimebue è stato rovinato, rovinato dall'arno che ha inondato Firenze. Il consiglio che vi do è quello di vedere il filmato in originale, perché è un filmato spettacolare. Penso che possiate trovarlo su YouTube oppure su Replay. È stato fatto il 29 ottobre alle 11.30 circa su Rai3. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!